Tutta nuova invece nella stagione 2019-2020, questa Salomon HPS per asmo, sembra una malattia dell'apparato cardiorespiratorio ma è una serie di snowsurf fatte in collaborazione con uno dei propri storici di Salomon. Questo qua è il modello, questo in particolare è il modello un po' più classico, uno shape directional, quindi uno shape tradizionale freeride senza particolarità, se non una costruzione veramente al top della gamma e una cura dei dettagli unica. Quindi dicevamo shape directional, punta più lunga e coda più corta, anche leggermente tapered, quindi la coda è anche più stretta, tutto questo aiuta sicuramente un galleggiamento eccezionale. Una tavola con un flex abbastanza tonico, chiaramente per rider discretamente esperti che vogliono un prodotto fighissimo da mettersi sotto i piedi perché è veramente unica. Il profilo è un rock out camber, quindi flat rialzato a simulare un camber tradizionale in zona centrale con rocker in punta e coda, aiuta ad avere un bel controllo sicuramente in tutte le condizioni, in tutte le manovre, con il galleggiamento che ci si aspetta naturalmente da una tavola da freeride. Il core anch'esso è il top, è un corgos green, molto leggero, bello reattivo, il top sheet è in legno, bellissimo tra l'altro da vedere, la soletta sinterizzata, insert in carbonio per stabilizzare la corsa e renderla ancora più reattiva, un bel tappetino appunto stile surf per avere grip aggiuntivo, molto molto ben fatta, anche tutta la dotazione di accessorio veramente definitiva. Se vi incuriosisce e avete qualche domanda extra, la tavola è alla sua prima apparizione, quindi ci sta che siate particolarmente curiosi, scriveteci qua sotto nei commenti oppure per email o sui nostri canali social. Se volete provarla restate sintonizzati sul nostro sito, alle nostre uscite sicuramente Salomon ce la darà in dotazione di tanto in tanto, basta che cogliate l'attimo appunto e ci veniate a trovare. A presto, boom!